eccoci qui Romics 2014 ci troviamo con un grande Mauro Goldsand ovvero i mostriciattoli ecco cioè lui Carletto dei mostri, Chobin e tantissimi altri sì alcune altre Ultra Lion, Superboy Shaddaa e adesso altre non me ne vengono in mente ma le più importanti quelle che sono rimaste nel mio cuore e anche nel vostro Chobin e Carletto Principe dei mostri ecco noi vogliamo mandare un saluto a tutti i fans su Youtube, MySpace e Twitter anni 70-80 anni 70-80 fans di MySpace e di Youtube noi siamo qua e voi dove state dall'altra parte del monitor su Facebook e qualche anticipazione? qualche anticipazione speriamo che domani sia bel tempo ecco e ci fai un pezzettino solo per anni 70-80 Chobin boin 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 ma com'è carino e buffo Chobin boin ma quel mostro di Carletto dov'è? alto, basso, largo e stretto dai Carletto che tocca a te grazie ragazzi ciao grandissimo Chris a TJ e Mauro Goldsand ciao ciao grazie ciao una figura un piacere sono un piaciuto una foto gentilmente ah si se vuoi bloccare